Furto e ricettazione, arrestato 56 anni a Cassibile, per lui oltre tre anni di reclusione. I cremini della stazione di Cassibile hanno arrestato un 56 anni nel luogo in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania. L'uomo è stato riconosciuto colpevole di furto, aggravato e ricettazione commesso nel 2013 a Siracusa e Floridi e condannato a tre anni e tre mesi di reclusione. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale Capadonna di Siracusa come disposto dall'autorità giudiziaria.